Pubblicato il bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di occupazione permanente di area pubblica nell'ambito del territorio del comune di Novara, destinate all'esercizio di attività di vendita quotidiane e periodici e o attività commerciali in chioschi. Il bando ha ad oggetto l'assegnazione di aree vuote, attualmente dismesse, precedentemente occupate da chioschi edicole. La volontà è di continuare a valorizzare quegli spazi disponibili. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.